Ben ritrovati al nostro settimanale di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi e microfoni Massimo Bonella parleremo di ambiente. In questi ultimi anni abbiamo assistito a un test cementificato sempre di più, in modo particolare il Veneto, con conseguenze al territorio non indifferenti. Ne parliamo con il noto ambientalista europarlamentare Andrea Zanoni, raggiunto a Mestre in occasione di un convegno. Il Parlamento europeo recentemente ha approvato una nuova direttiva, la direttiva per la valutazione ambientale, della quale io sono il relatore per il Parlamento. È una direttiva che introduce delle unità molto importanti perché è una direttiva che va a valutare l'impatto ambientale di questi grandi progetti pubblico-privati, pubblici oppure privati, che possono durare anche per intere generazioni. In questa direttiva, ad esempio, io sono riuscito ad inserire la valutazione del rischio per la salute. È una cosa molto importante perché questi grandi impianti, grandi progetti, possono avere delle riprecursioni serie per quanto riguarda la salute. Poi ho inserito il conflitto di interesse, cioè una norma contro questo fenomeno tutto italiano che vede spesso chi presenta un progetto avere dei conflitti perché poi può addirittura corrispondere con chi valuta questo progetto. E quindi questa sarà una norma che impedirà il conflitto di interesse. Poi abbiamo un'altra norma che ho fatto inserire che riguarda le sanzioni per chi è chiamato a valutare la dannosità, l'impatto ambientale di questi progetti e non fa il proprio dovere. Un'altra norma che ho fatto inserire è quella cosiddetta sul salami slousing, ovvero spacchettare un progetto in più piccoli progetti per far vedere che non c'è impatto ambientale. Anche questo non potrà più essere fatto. La trasparenza sarà un denominatore comune di questa nuova direttiva. Ci sarà anche un portale centrale, ovvero un sito internet, nel quale dovranno essere pubblicati i documenti di questi progetti. In modo tale che un cittadino, senza che stia lì a mandare lettere raccomandate e aspettare 30 giorni per le risposte da parte delle autorità locali, può da casa sua, quando vuole, con uffici chiusi, anche di notte, di domenica, di sabato, andare su internet e trovare i documenti relativi a questo progetto. Poi naturalmente vengono contemplate nella valutazione anche fattori come il clima, sappiamo quali problemi ha creato il cambiamento climatico oggi a livello planetario, anche considerare il paesaggio, i beni artistico-culturali, anche questi troppo spesso vengono in qualche modo degradati dalla costruzione di queste grandi opere molto impattanti. E quindi diciamo che complessivamente è una norma che andrà a tutelare maggiormente l'ambiente, ma anche la salute di tutti i cittadini. Ultime due domande. Prima è questa. Il Veneto, prima l'abbiamo detto in assemblea, è molto inquinato, non è vero? Allora, il Veneto con la maggior parte delle regioni del nord Italia è inquinatissimo per quanto riguarda l'aria. Noi come Stato membro siamo stati condannati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 19 dicembre del 2012 perché da oltre dieci anni violiamo la direttiva sulla qualità dell'aria. Da oltre dieci anni i cittadini del Veneto e tutti i cittadini del nord Italia respirano aria avvelenata. La stessa Commissione Europea, da uno studio fatto, ha tirato la somma e ha verificato che ogni anno ci sono 500.000 morti, cittadini europei che muoiono, 500.000 prematuramente rispetto all'età normale. Questo a causa delle polveri sottili. L'altro fenomeno che preoccupa moltissimo è l'inquinamento diffuso delle falde acquifere. Abbiamo un'area che è ricchissima di acqua dolce ma sempre più povera di acqua potabile perché l'agricoltura, le industrie e le discariche nel tempo hanno creato inquinamenti molto diffusi che hanno raggiunto anche le falde acquifere più profonde, costringendo le reti acqueduttistiche e i privati a fare dei pozzi di emulgimento dell'acqua potabile sempre più profondi per poter raggiungere le ultime falde che hanno una qualità dell'acqua molto buona. Anche in questo caso, come per l'aria, esiste una procedura di infrazione dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia e quindi conviene all'Italia, conviene alla nostra regione, attuare tutte quelle azioni utili a disinquinare l'acqua perché altrimenti rischiamo addirittura di pagare delle pesanti sanzioni che la Corte di Giustizia potrebbe decidere nei confronti dell'Italia. Sarebbe da fare, come dire, la vera politica, cominciare a togliere i tir dell'autostrada, ad esempio, e metterli sulla ferrovia oppure anche l'autostrada del mare, questo è un esempio. L'Unione Europea cosa pensa di questa cosa? Diciamo che l'Unione Europea privilegia naturalmente il trasporto anche su rotaio, su queste vie navigabili sono intervenuto anche per quanto riguarda la Padova Mare che potrebbe togliere del traffico pesante il traffico pesante è una delle cause dell'inquinamento da polveri sottili bisogna pensare poi anche all'altro fenomeno minore ma grave comunque che è quello dell'usura dei pneumatici che crea un inquinamento con delle particelle molto piccole che possono penetrare anche nell'organismo quindi il lavoro da fare ce ne sarebbe molto diciamo che invece possiamo constatare anche recentemente che la Regione ha tagliato moltissime corse di treni treni anche molto utili ai pendolari aggravando ulteriormente quello che è il traffico urbano e quindi l'inquinamento da polveri sottili l'inquinamento da combustione derivato appunto dai motori di questi autoveicoli Riprendiamo da studio, ringrazio Andrea Zanoni per queste spiegazioni che ci fanno veramente riflettere grazie anche a voi gentili ascoltatori che ci avete seguito da Massimo Bonella l'augurio di una buona giornata